buongiorno sono Giampaolo Pasolini dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia oggi vi presento una splendida volkswagen golf 7 GTD è il motore 2000 turbo diesel da 184 cavalli versione più sportiva del diesel presente in gamma è una vettura immatricolata nel settembre 2013 con soli 63.000 chilometri percorsi e tutti tagliandati in volkswagen quindi le manutenzioni ufficiali attestano anche la veridicità dei chilometri percorsi la vettura è con cambio manuale 6 marce è un full optional ruote da 18 pollici sensori di parcheggio anteriori e posteriori sistema di parcheggio fari axeno anteriori fari led posteriori vedete bellissima nera metallizzata vetri posteriori oscurati specchi richiudibili elettrici sistema di navigazione satellitare cartografico viva voce bluetooth sistema acc che è il radar che mantiene la distanza dal veicolo che precede volante multifunzione ha il drive select mod possiamo stabilire che tipologia di configurazione del veicolo faccio vedere al navigatore climatizzatore automatico bizzona questa è una macchina stupenda super accessoriata vi mostro anche i chilometri eccoli lì 63.000 la vettura dispone anche delle gomme invernali sempre da 18 pollici molto belle la proponiamo con 12 mesi di garanzia e vi aspettiamo gussago in provincia di brescia per vederla provarla ed eventualmente acquistarla inoltre vi ricordo che è fatturabile con iva deducibile grazie grazie